ma se non apri è su qua ma va oh devi aprire sotto qua manetta se no non vai su più olè olè uai preciso ha fatto spaventare il dio seme non prova più ho detto basta non prova più ho detto te non l'hai visto non l'hai visto il cinema cazzo doveva andare la filmare quando andare via fuoco hai aperto alla radice deve aprire qua qua devi aprire qua devi aprire non la no non è aperto